nuovo ospedale a pesero i chiarimenti della regione in consiglio comunale omicidio bruzzese nel mirino dei killer c'erano altri due fratelli del pentito l'università di urbino accoglie il polo didattico petriccio acqua lagna il tartufo entra nella sua stagione migliore il natale di fano si accenderà il 26 di novembre una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro spazio informativo della sera che in questo in questa edizione di martedì 7 di novembre apriamo con i tanti contenuti emersi nel consiglio comunale monotematico sulla sanità tenutosi ieri sera alla presenza del presidente della regione marchio francesco cuaroli ma anche degli assessori baldelli e saltamartini rivelati nell'occasione passi avanti sulla costruzione del nuovo ospedale di pesero da realizzare sul sito di muraglia a un anno e mezzo dal precedente consiglio comunale monotematico sulla sanità ieri il governatore acquaroli si è ripresentato nel municipio peserese supportato dagli assessori saltamartini e baldelli oltre alla presenza della direttrice dell'azienda sanitaria territoriale nadia storti regione che è stata incalzata dal consiglio comunale su tanti quesiti trasversali all'andamento della sanità a cominciare dal nuovo ospedale da costruire a muraglia sul quale da ieri la gara d'appalto ha stretto il cerchio su 12 studi di progettazione ben 12 studi una gara molto partecipata di cui siamo orgogliosi perché la prima gara di questo tipo è stata pubblicata proprio dalla regione marchio il più grande investimento mai realizzato nella nostra regione si realizza a pesaro faremo grande attenzione al contesto urbanistico in cui si va ad inserire il nuovo ospedale nel quartiere di muraglia perché vogliamo l'integrazione di questo nuovo grande presidio in un territorio molto fragile ma anche molto bello sottolineeremo tra l'altro nella scelta dei partecipanti coloro i quali hanno dei requisiti tecnici che li hanno portati in passato a costruire nuove strutture ospedaliere avanzate anche tecnologicamente come sarà quello di pesaro tanto che nella pesatura delle offerte il 10% sarà dedicato alla parte economica ma il 90% sulle qualità tecniche dei progettisti Baldelli ha ricordato come ci sono tutte le carte in regola per rispettare il cronoprogramma di via ai lavori per fine 2024 Il cronoprogramma varrà rispettato abbiamo chiesto all'asta di liberare entro settembre 2024 gli stabili che dovranno essere abbattuti per la costruzione del nuovo ospedale perché da quella data noi cominceremo le procedure per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero da tutte le bonifiche necessarie, da quelle archeologiche a quelle belliche alla rimozione degli edifici che sono, che insistono sull'area dove costruiremo il nuovo ospedale e poi la costruzione del nuovo ospedale Dopo il dietrofront sull'ospedale unico Riccia ha chiesto espressamente un progetto pensato come modulare Anche noi vogliamo che il progetto sia bello vi chiediamo che sia modulare perché io penso che alla fine i numeri iniziali cioè quello di 600 posti ritornerà ad essere l'esigenza vera di questo territorio Acquaroli ha ricordato come quella peserese sia la provincia sulla quale si stia maggiormente concentrando lo sforzo della riforma sanitaria Il comprensorio dove la riforma sanitaria sta incidendo in maniera significativa dove stiamo cercando di unificare, abbiamo già riunificato l'area vasta e Marche Nord e dove noi puntiamo tantissimo per abbattere la mobilità passiva Abbattimento della mobilità passiva che per l'assessore Saltamartini avrà nel nuovo ospedale uno snodo determinante Ci sono i fondi e c'è un ospedale da 460 porti letto Noi oggi ne avevamo 382 quindi aumentiamo la dotazione spostando dei posti letto sul peserese quindi cominciamo a partire con il riequilibrio dei posti letto sulla provincia, sulla ST di Pesa Ricci ha poi incalzato l'Ast su maggior coinvolgimento nei trasferimenti e ha invitato a maggior chiarezza su contenuti e dinamiche di rete Cosa ci volete fare dentro l'ospedale? Che eccellenze ci saranno? Come sarà organizzato? Lo possiamo sapere? È una domanda legittima oppure no? Se vogliamo fermare la mobilità passiva Come si rapporterà con Fano? Rifacciamo due primari per ogni struttura? Come si rapporta con Urbino che era l'ospedale di rete e Pergola che è l'ospedale di Polo? Per Acquaroli la linea tracciata dalla regione prosegue sul percorso intrapreso nel consiglio monotematico di 18 mesi prima Siamo qua per il secondo consiglio monotematico aperto A me fa piacere questo tipo di rapporto che si stabilisce perché è un rapporto di natura istituzionale Le difficoltà, le criticità ci sono, ci sono nelle Marche, c'è in tutta Italia Per via di un sottofinanziamento che per tanti anni è avvenuto Ora devo dire che grazie al governo anche quest'anno in finanziaria ci sarà un nuovo finanziamento A sostegno del sistema sanitario nazionale e quindi di quello regionale Accaduta per il rinnovo dei contratti, per l'abbattimento dell'esterno attesa Sono risorse importanti che noi attendavamo da tanto tempo Che speriamo nelle prossime mesi e con l'aiuto delle nuove aziende E del nuovo piano sociosanitario potrà produrre gli effetti sperati E tra i vari interventi del consiglio comunale monotematico sulla sanità Ha tenutosi ieri particolare rilevanza avuto quello della direttrice dell'azienda sanitaria territoriale provinciale Nadia Storti che ha fatto chiarezza su come si modificheranno O manterranno alcuni contenuti ospedalieri tra il San Salvatore e il sito di Muraglia C'è un nuovo ospedale da costruire all'avanguardia Ma cosa resta del vecchio ospedale di Muraglia in via di demolizione? E cosa resta e cosa arriva all'ospedale San Salvatore? Questi sono stati alcuni quesiti sulla quale è intervenuta la direttrice dell'azienda sanitaria territoriale provinciale Nadia Storti Durante il consiglio comunale monotematico sulla sanità Tenutosi alla presenza dei vertici dell'amministrazione regionale Intanto quello che è presente all'interno di San Salvatore Confermo come ha già detto l'assessore Rimane senza nessuna ulteriore costrizione In particolare per quanto riguarda il punto nascita Sia la ginecologia che la pediatria Su Muraglia il punto di partenza sarà il mantenimento del polo oncologico La scelta è stata quella inoltre di mantenere un polo oncologico a Muraglia Perché un polo oncologico? Perché a Muraglia nella palazzina triangola di cui io sono lazi C'è la radioterapia, c'è il bunker della radioterapia Della medicina nucleare, la preparazione dei farmaci E quindi diventava difficile portare via l'ematologia e l'oncologia Perché era necessario poi fare continuamente i trasferimenti da una parte all'altra Quindi la palazzina a Solazzi diventerà il polo oncologico delle ex muraglie per intenderci Togliendo tutto quello che sta all'interno Quindi la fisica, la lumaca, altre attività Che poi vi dirò dove vengono spostate Avremo quindi un polo oncologico unico Dove c'è l'oncologia, l'ematologia, la radioterapia E utilizzando parte della palazzina attualmente della formazione Andremo a mettere la fisica sanitaria Che serve per la predisposizione dei piani terapeutici per i pazienti oncologici Quindi la centratura prima di fare la radioterapia E l'umaca, la preparazione dei farmaci Quindi diciamo che il polo oncologico non viene assolutamente intaccato Tutto il resto della struttura Quindi la parte amministrativa Il punto prelievi chiaramente vengono delocalizzati Il punto prelievi utilizzeremo altri punti prelievi sul territorio Perché alla fine aumenteremo il prelievi nelle strutture che già abbiamo Mentre per quanto riguarda la diabetologia Verrà trasferita in una parte vuota dell'ospedale San Salvatore E le malattie infettive, quelle che ci creavano maggiori problemi Perché comunque ci sono dei pazienti diciamo abbastanza complessi Prenderà lo spazio del reparto Covid Che è stato costruito appositamente Per contenere soggetti che hanno malattie infettive Quindi con le pressioni sia positive che negative Abbiamo avuto una animata discussione con il direttore Perché giustamente avevamo voluto scegliere delle soluzioni migliori E diamo due piani alle malattie infettive In modo tale che non ci sia promiscuità nel percorso E nella gestione di pazienti interni ed esterni Quindi questo significa che in questo momento Non avremo nessuna attività che viene ridotta Emergono ulteriori sviluppi processuali In merito all'omicidio di Marcello Bruzzese Avvenuto a Pesaro il giorno di Natale del 2018 Continuano infatti le udienze nella Corte d'Assise del Tribunale Pesarese Per il processo a carico di Rocco Versace Ritenuto il fiancheggiatore degli esecutori materiali dell'omicidio Michelangelo Tripodi e Francesco Candiloro Già condannati all'ergastolo Marcello Bruzzese fu ucciso per vendita trasversale d'Indrangheta In seguito al pentimento del fratello Girolamo Biagio Bruzzese Ex affiliato della Cosca Crea Divenuto poi collaboratore di giustizia A Pesaro la deposizione del maresciallo dei Rossi Francesco Lobefaro ha fatto emergere Come attraverso le indagini di intercettazione telefonica Versace e Tripodi avessero monitorato Due casi simili a quello di Pesaro Sia Evrea in Piemonte sia a Termoli in Molise Dove vivevano rispettivamente un altro fratello E una sorella della famiglia Bruzzese Valutazioni su altre possibili vendette E altri possibili omicidi Prima di far ricadere la scelta definitiva Di aprire il grilletto a Pesaro Su Marcello Bruzzese La città di Fano piange la scomparsa A 88 anni di Gianni Lamedica Uno dei più noti e apprezzati architetti Della città che ha saputo ridisegnare Con progetti urbanistici visionari Alla medica si devono le progettazioni Delle chiese di Bellocchi e di Fano II La nuova sede delle Benedettine Sulle pendici di Montegiove Ma anche il progetto di restauro Della Rocca Malatestiana E la passeggiata di Sassonia Così come il cimitero dell'Ulivo Il funerale si terrà domani Alle 15 nel Duomo Fanese Incidente stradale oggi Nella frazione peserese di Trebbiantico Dove un uomo alla guida di un'auto È finito fuori strada rovinando con la vettura In una scarpata profonda 5 metri Sono intervenuti i vigili del fuoco Della centrale di Pesaro Per riportare in superficie il veicolo E estrarre il ferito Che è stato soccorso dall'eliambulanza In seguito alla gravità dei traumi riportati Ed ora lo spazio dedicato Alle vostre segnalazioni Che come sempre vi invitiamo ad inviarci Al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210 Proprio in questi giorni A Pesaro si puliscono le caditoie Di zona mare Ma Marco, nostro telespettatore Ci fa notare attraverso queste immagini Come si presentava questa mattina Attorno alle 7 Via Cavallotti Angolo Viale della Vittoria Ovvero vie allagate Dopo le precipitazioni della notte Il tutto dopo un intervento di manutenzione Avvenuto appena il giorno prima Ci spostiamo a Urbino Dove l'università si arricchisce Di un nuovo polo didattico Sbloccando un'area che da decenni Attendeva di essere riqualificata Vediamo Amiche e amici di Rossini TV Siamo ad Urbino Di fronte all'ingresso Del nuovo polo didattico Petriccio Viene inaugurato questa mattina Un momento molto importante Per la città di Urbino Per l'Ateneo Perché tutto questo Ha una storia lunghissima Che andremo a scoprire Ha una storia sviluppata nel tempo Che finalmente arriva Al primo step di questo compimento Scopriamo insieme di cosa si tratta Queste aule sono effettivamente Un'aggiunta importante Per le strutture didattiche dell'Ateneo Soprattutto vanno a colmare Una mancanza di aule Di una certa dimensione Che avevamo Eravamo costretti a compensare Ad esempio col cinema Con altre situazioni non adatte Quindi è un miglioramento Significativo per la qualità Della didattica Per la qualità di studio Dei nostri studenti E ovviamente anche Una valorizzazione di questo spazio Anche per il comune di Urbino Per la città È un progetto che viene da lontano Perché appunto Già De Carlo aveva ideato Quest'area Ma abbiamo dovuto adeguarla Perché purtroppo Ci sono volute parecchie modifiche Variazioni Variazioni di Molte varianti La prima fra tutti Per dividere le aree Tra i privati L'università L'Asur Perché questa è un'area Di comproprietà Di molti proprietari Quindi abbiamo dovuto fare Diversi processi Che chiaramente Ricalcano Quella che era l'idea originale Ma viene modificata In molte parti Perché così come era stata pensata All'inizio Non era fattibile Non era così Realizzabile C'è una grande soddisfazione Anche solo Pensando che Otto mesi fa In quest'area dove siamo C'era livello zero Non c'era niente Quindi Abbiamo realizzato un'opera Che aiuterà I nostri studenti A vivere delle esperienze Di aula Confortevoli Ed entusiasmanti In tempi Che normalmente I lavori pubblici Nel nostro paese Non sono previsti Devo dire che L'università è stata Molto solerte Nel procedere Dopo gli interventi Che abbiamo fatto Di comune accordo Proprio per sbloccare Quest'area del pretricio Ma diciamo Esce anche dal punto di vista Didattico Non solo Dal punto di vista murario Perché chiaramente Questa struttura Che è stata realizzata E così Anche molto velocemente È l'inizio Di un percorso Di tutto Lo sviluppo Di quest'area Che comprende poi Anche le palestre Per scienze motorie Ma comprende Lo studentato Comprende veramente Uno sviluppo Di un'area Che era ferma Da 40 anni Quindi Chiaramente Come amministrazione Siamo molto soddisfatti Di questo Processo Di sviluppo Che l'università Insieme all'amministrazione Comunale Sta portando avanti Domani mercoledì 8 novembre Ai musei civici Si terrà un incontro pubblico Sul tema Dell'innovazione Tecnologica e ambientale Promosso dal gruppo Territoriale Del Movimento 5 Stelle Pesaro Alla presenza Di Alfonso Pecoraro Scano Già ministro Delle politiche agricole Del governo Amato E poi Ministro dell'ambiente Del governo Prodi Nonché ex presidente Della federazione Dei verdi A moderare l'incontro Sarà Mauro Rossi E il relatore Dell'appuntamento Sarà Carlo Evangelisti Oltre alle bomboniere Anche un canestro Da donare A Pesaro Città dello Sport E' stata questa La scelta Di Gloria Omiccioli E Francesco De Genghi Due giovani pesaresi Che si sono sposati A settembre E che hanno deciso In questo contesto Di festa Di donare Un nuovo canestro Al playground Di Villa San Martino Dedicato al compianto Arbitro Gianluca Mattioli Un contributo Applaudito Nell'occasione Dall'assessore allo sport Mila Della Dora E invece Domenica 12 novembre Tra le 16 il Museo Nazionale Rossini Ospiterà l'evento Il Seicento In musica Lezione e concerto Con il soprano Pamela Lucciarini Si tratterà di un'occasione unica Per assaporare la musica Seicentesca Dal madrigale In stile rappresentativo Fino alla nascita dell'opera Attraverso un calidoscopio Di passioni dell'anima Che si avvicineranno Tra momenti di ascolto E fasi di descrizione Delle forme musicali Con approfondimenti Sul rapporto Tra testo e musica E cenni biografico-stilistici In merito Ai compositori E dopo la partenza Col botto Registrata Alla presenza Della premier Giorgia Meloni Prosegue di slancio La 58esima Fiera del Tartufo Bianco Di Acqualagna Vediamo a tal proposito I momenti salienti E l'analisi Della stagione Dei tartufi Con le immagini Del secondo Weekend Di fiera La 58esima Fiera del Tartufo Bianco Di Acqualagna Era partita Col botto Attraverso La visita istituzionale Del presidente Del consiglio Giorgia Meloni E proseguirà Fino a sabato 11 E domenica 12 novembre Nel mezzo Un weekend Altrettanto partecipato Dove nel borgo Ammantato Dalla Roma Del prezioso tubero E' andata in scena La prima gara nazionale Delle città del tartufo Con la proposta culinaria Dello chef Paolo Fiaschi Che ha visto vincere La città pisana Di San Mignato Convolgevano questa sfida Le città di Alba San Mignato Acqualagna Mandola Gubbio Isernia Quindi città molto importanti Per l'obiettivo è promuovere Un territorio Promuovere il tartufo Che è un prodotto D'eccellenza Per tutta l'Italia Dalla terra del tartufo Di Alba Alla terra del tartufo Di Acqualagna Protagonista del sabato E' stata anche la presenza Del fondatore Di Italy Oscar Farinetti Che ha presentato Il suo libro Dieci mosse Per affrontare il futuro Il turismo legato al cibo In Italia Ha un senso enorme Probabilmente Il primo asset Insieme all'arte Chiaramente E ai nostri 59 patrimoni Dell'UNESCO Bisogna che i territori Leghino sempre Il loro prodotto Di eccellenza Da mangiare Nel vostro caso Il tartufo Che è The King Con i vini Vini e tartufo Vini e tartufo Come facciamo noi Ad Alba Da una vita Col Barolo Barbaresco Il tartufo Ha avuto successo enorme Voi avete la fortuna Di avere Dei vini strepitosi Verdicchio Bianchello Altri vini Dovete fare gli abbinamenti E funziona Funzionerà sempre di più Acqualagna Oggi è considerato Insieme ad Alba Il tartufo Più prestigioso D'Italia Dovete mantenere Questa connotazione Di Acqualagna Caricandoci sopra Delle storie Tipiche di questo paese Perché La grande scommessa È la narrazione Il prodotto c'è Va narrato bene Protagonista assoluto Però è sempre Il prodotto A cominciare Da pepite da record Come quelle cavate In apertura di fiera Da Stefania Tofani Di 1,20 kg E di Giancarlo Marini Da 7 etti Un tartufo Da 1,20 kg E Ed è venuto Proprio per l'inaugurazione Della fiera Quindi Ha fatto anche da volano Un po' Alla fiera stessa Dai Siamo contenti per quello Dai tartufi record A quelli standard Che hanno convissuto Con una stagione Di effetti climatici Abbiamo avuto Abbiamo avuto Un mese di ottobre Con grosse difficoltà Con un prodotto Anche non di alta qualità Perché si conserva poco Quando le temperature Sono alte Il tartufo si conserva 3-4 giorni Ora Con l'abbassamento Delle temperature Abbiamo un tartufo Di maggior qualità E anche un prezzo Inferiore rispetto Ai primi di ottobre Quindi stiamo andando Verso una stagione migliore E abbiamo anche Dei prezzi Abbastanza popolari Diciamo Perché Da 150 letto A salire 200-250 Però ecco Non raggiungiamo I prezzi D'anno scorso Che erano proibitivi La ristorazione Fa la parte del leone Nel consumo dei tartufi Qui Nel centro Italia Abbiamo Per fortuna Una ristorazione Che adopera Tartufi piccoli Che costano un po' di meno Che fanno partire Il piatto tartufato Dalla cucina Mentre al nord C'è la cultura Di servire il tartufo Al tavolo Ma servire il tartufo Al tavolo Significa portare Dei tartufi Di grande dimensione Che costano di più E io ribadisco Per l'ennesima volta Non c'è differenza Di qualità Tra un tartufo piccolo E un tartufo grosso Quindi Io do un consiglio A tutti Quando si tratta Di comprare Dei tartufi Per mangiare Con amici O in famiglia Di puntare decisamente Ai tartufi piccoli Che costano Quasi la metà E sono identici A quelli grandi E vi ricordiamo Che potrete Ulteriormente Approfondire Le tematiche Relative Alla fiera Del tartufo Del tartufo Bianco Di Acqualagna Nello speciale D'approfondimento Che ha realizzato La nostra Nicoletta Tagliabracci E che vi mostreremo Venerdì 10 novembre Alle 21.20 Da Acqualagna A Fano Facciamo un salto In avanti Verso il Natale Il Natale Che non ti aspetti Di Fano Che scatterà Ufficialmente Il 26 novembre Come spiegato Ai nostri microfoni Dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli L'inaugurazione Bella come l'abbiamo Sempre conosciuto Ha un grande spettacolo In piazza 20 settembre È prevista Per il 26 di novembre E Fano Accenderà La sua città Con mercatini Nell'area del Pincio Con una serie Di spettacoli Che avverranno Tutti i sabati E domenica In piazza 20 settembre Con una magica Via dei presepi Che partirà Dal presepe Dei mestri carristi Che è presente Nella zona Pincio Con il presepe Di San Marco Che è un'istituzione Nella città di Fano Col presepe Del porto Per raccontare La marineria Che ha Fano Molto forte E con tutta Un'altra serie Di progetti Avremo il Capodanno Avremo l'evento Della Befana E avremo altre cose Altre novità Che racconteremo Proprio i prossimi giorni Perché in questo momento Stiamo attendendo A seguito Di una manifestazione Di interesse Chi sarà Il braccio operativo Dell'amministrazione Gli anni scorsi È stata la proloco di Fano Ma noi Come è giusto fare Abbiamo aperto Una manifestazione Di interesse Per capire Chi opererà A seguito del progetto Che ha portato avanti L'amministrazione E insieme loro Detteremo anche Importanti novità Che racconteremo I prossimi giorni Per cui Nessuna preoccupazione L'amministrazione comunale Ha stanziato i fondi Anche quest'anno Per il Natale E per rendere bella La città Come sembra E attrattiva Come tra l'altro So che sta facendo Tutta la provincia Di Pesaro Urbino Perché è un Natale Che non ti aspetti Che deve servire Per portare Tutta Italia In questo territorio E Fano ovviamente Vuol portare Le persone Che verranno In questo territorio A conoscere bene La propria città E si conclude Qui questa nostra Edizione Delle telegiornale Rossini News Prima di salutarci Vi ricordiamo Alcuni appuntamenti Sul canale 80 A cominciare Dalla nostra Prima serata Che in questo Martedì 7 novembre Vedrà alle 21.20 La presentazione Del nostro speciale Dedicato Alla inaugurazione Della seconda E nuova sede Di lingua Pesaro Realizzata Sulla statale Adriatica Dopo la sede Storica Nel centro Storico Appuntamento Come detto Alle 21.20 E poi vi ricordo Come sempre L'appuntamento Con l'informazione Su Rossini TV Che torna domattina Alle 7.20 Come sempre In diretta Con Buongiorno Rossini La nostra Rassegna stampa Dei quotidiani locali Che vi tiene Compagnia Ogni mattina Dal lunedì Al sabato Ma facciamo Un salto in avanti Anche a giovedì Sera nuova puntata D'insieme A Canestro Con la nostra Elisabetta Ferri Che avrà Ospite Nei suoi studi Il coach Della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia E con lui Anche l'opinionista Isportando Matteo L'appuntamento È come ogni giovedì Alle 21.20 Come sempre In diretta Anche con la possibilità Di interazione in diretta Di voi Telespettatori Al numero Whatsapp Che vedete in grafica 370 366 72 1 0 Ed è davvero Tutto per questa Sera Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei nostri programmi Per averci seguito